Pietro Aretino Dubbi amorosi Dubbio quinto Un moro avea bisogno d'un ducato e ad interesse lo volea pigliare. Ad Isabella Padoana andato, che a questo modo ne sole a prestare. L'ebbe con patto scritto che cacciato le avesse in cul finché l'avea a pagare, un cazzo che gli avea fuor di misura. Questa convenzion può dirsi usura? RISOLUZIONE QUINTA Chi dell'impresto sol riceve prego, l'usura è ben dover perché si parta. Ma in questo caso che sia usura nego, perché con l'infedel si fa la carta. In capitolo ab illo questo allego, decima quinta, questione quarta, ov'è che il Papa usura far concede con quelli che non son di nostra fede. Dubbio tredicesimo Era gravida, monna berniciglia, e vide un cazzo dalla sua finestra con la testa si grossa, che somiglia ad un grosso bolzon d'una balestra. Lei, che voglia navea, lo prese a briglia tutta gioiosa con la sua mandestra, e se lo pose in bocca con gran furia. Peccò costè di gola o di russuria? RISOLUZIONE TREDICESIMA Né in l'un né in l'altro, avea costei peccato, giudico, se con Bartol non m'inganno, nel titol delle somme dello stato imperiale, ove non può né affanno né pena aver chi ha il ventre ingravidato, a ciò che il parto non ne senta danno. Similmente a costei non dee vietarsi, cosa che al ventre venga utile a farsi. Dubbio decimo Sul cazzo che rizzato avea fracarlo giù dal balcone cascò suor Margherita, le ruppe il culo, e le salvò la vita. Dovea perciò dolersi o ringraziarlo? Soluzione decima Se nel precipitar sor Margherita non dava il cul sul cazzo di fracarlo, certo morìa, onde ringraziarlo dee che col cazzo suo le die la vita.